Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui per la vostra pregame. Oggi ne ho parlato di due partite. La prima è stata giocata tutto alle 6, di pomeriggio tra Fiorentina e Sampdori. La seconda è stata giocata poco fa tra Roma e Genua. Vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciate un like e toglie la campionina del soggiorno sui miei contenuti. Iniziamo con la prima partita. Ho visto una Fiorentina di alto livello, una Fiorentina di grande superiore rispetto a questa Samp, che pensa soprattutto al campionato e alla salvezza. Una Samp che gioca la partita con una formazione schiata in campo con tanti giovani. Abbiamo visto anche Montevago, che è veramente un giocatore di prospettiva, come punta centrale. Poi abbiamo visto altri innesti. Ma pensiamo soprattutto alla Fiorentina, che ho visto veramente fare una bella partita, un bel gol di Barak. Non c'è stata nessuna azione in particolare, c'è stato per quanto riguarda la Samp. Ma per quanto riguarda la Fiorentina, veramente c'è stato un grande possesso palo. Una Fiorentina che l'ho vista veramente giocare bene in campo. Che si andrà a scontrare, soprattutto contro il Torino, che ha fatto una grande impresa contro il Milan. E a ripensare soprattutto la sconfitta che abbiamo subito tutto ieri contro il Torino. È veramente una brutta figura. Abbiamo fatto noi i tifosi rossoneri. Ma non ci pensiamo. Andiamo soprattutto a dare un'analisi del continuo di questa partita. Abbiamo visto un grande possesso palla. Grandi giocatori messi in campo. Una grande Fiorentina che ritrova Jovic. Facendo soprattutto una grande prestazione. La Fiorentina può pensare sia alla Coppa Italia, ma anche a altre competizioni. Come parliamo soprattutto del campionato, che prova soprattutto la Fiorentina a qualificarsi tra le prime sette posizioni. Per trovare tutto in posto in Europa, in qualche competizione europea. Ma ora parliamo della Roma. Abbiamo visto una Roma con un ottimo atteggiamento. Ho visto una grande formazione messa in campo. Un grande Pellegrini che per fortuna si è fatto male e viene cambiato. E viene sostituito soprattutto al posto di Dybala. Poi abbiamo visto uno stadio pieno di tifosi giallorossi. Che hanno sostenuto soprattutto la squadra per quanto riguarda questa partita di Coppa Italia. Quest'attività di finale. Ci sono stati tanti tiri da parte della Roma. Tanti tiri sprecati. Ma c'è stato tutto il gol che è arrivato con Dybala. Una delle sue grandi giocate. Che hanno portato tutto in vantaggio la Roma. Ho visto una Roma veramente che ha giocato un bel calcio. È stata un po' sprecona in attacco. Ci sono state tante azioni. Soprattutto dal signor Zaniolo che veramente l'ho visto correre tanto. Ho visto veramente un ottimo Abram. Questa Roma secondo me in campionato può dire ancora la sua. E anche e soprattutto nella competizione europea. Una Roma che secondo me in alcune circostanze deve migliorare alcuni aspetti. Soprattutto deve migliorare il carattere di Zaniolo. Che è un poco... C'è stato veramente tanto nervosismo per quanto riguarda Zaniolo. Con l'albitro che ha diretto tutta questa partita. Poi tra virgolette oltre a vedere una buona Roma. Ho visto soprattutto un buon Dybala. Che oltre al gol realizzato. Veramente il grande contributo. La grande premiazione. Inizio partita. E ora pure è arrivato anche il gol. Questo giocatore. E fanno tutto aumentare lo stato d'animo del giocatore. E anche lo stato mentale. Una Roma che mi è piaciuta. Una Roma che ha avuto un grande possesso palermo. Tutto da quanto riguarda la partita. Un Genoa che ha messo una formazione. Con pochi titolari. Dove Girardino soprattutto sta pensando alla Serie B. Quindi al campionato di categoria. Che vuole pensare tutto a portare il Genoa. E a qualificarlo soprattutto in Serie A. Abbiamo visto poi negli ultimi 15 minuti. Abbiamo visto alcuni titolari. Che Girardino ha fatto entrare. Per provare, rischiare. E trovare soprattutto il pareggio. E portarsi ai tempi supplementari. Questo non è accaduto. Abbiamo visto un Genoa. Che ha fatto qualche azione molto interessante. Complimenti a questo Genoa. Non sta in tutta la superiorità della Roma. Che si porta questa grande qualificazione a casa. Fatemi sapere attraverso i commenti. Cosa ne pensate. Di queste due prestazioni. Che quanto riguarda la Fiorentina. E quanto riguarda la Roma. La Roma andrà a giocare contro la vincente. Tra Napoli e Cremonese. Mentre la Fiorentina andrà a giocare contro il Torino. Che ha fatto veramente una grande impresa. Contro il Milan. Veramente una prestazione brutta. E quanto riguarda il Milan. Ma complimenti al Torino. Complimenti alla Fiorentina. E complimenti alla Roma. Bella ragazzi.